svolta nella famiglia reale inglese le due cognate sarebbero pronte a riappacificarsi dopo mesi di lontananza e guerra fredda pace in vista tra megan markle e kate middleton stando a quello che si legge sui tabloid inglesi la moglie del principe harry avrebbe contattato la cognata per coinvolgerla nel progetto netflix che la vede protagonista insieme al marito megan avrebbe deciso di realizzare un mini documentario dedicato alle opere di beneficenza e all'impatto che queste hanno sulla vita di molte persone per questo motivo avrebbe richiesto l'intervento di kate middleton che da ormai diversi anni porta avanti iniziative importanti per le famiglie e i bambini secondo quanto spifferato da una fonte ad us weekly megan e kate si sarebbero concesse lunghe chiacchierate telefoniche nelle ultime settimane la moglie del principe william si sentirebbe lusingata dalla proposta della cognata a quanto pare quindi kate middleton sarebbe passata sopra le rivelazioni fatte da megan nel corso dell'intervista rilasciata a opera winfrey e così con l'appoggio della regina elisabetta starebbe tentando di riavvicinarsi ai sussex mentre kate middleton e megan markle tentano un ricongiungimento la situazione non sembra cambiata tra william e harry i due fratelli continuano a non rivolgersi la parola e piuri il principe carlo ha tagliato i ponti con il suo secondo genito sia il funerale del principe filippo che l'inaugurazione della statua di lady diana non sono infatti bastati a far deporre lascia di guerra ai due fratelli che sono sempre stati legati fino alla rottura avvenuta qualche mese fa a far tremare la corte inglese è poi l'imminente uscita dell'autobiografia di harry grazie a tutti